ho già sbagliato tutto i miei bagagli per il ciclo viaggio partendo dalla parte ma passiamo infine alle borse del ciclo turismo classico che ho usato per i prossimi viaggi futuri passiamo infine alle borse da ciclo turismo classico che è un'arma comunque vi lascio in descrizione tutti i link ai prodotti che vi parlo ho utilizzato una manù le cose cambiano ma ma porca puttana perché non mi viene una frase la roba sintetica si asciuga in fretta quindi al mattino avrete po 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 poi si è venerdì i tuoi e o Grazie a tutti.